Salve, salve a tutti e bentornati in un mio nuovo video sul mio canale, innanzitutto voglio ringraziare tutti i miei iscritti, tutti quanti, dal primo all'ultimo, dal primo all'ultimo, perché per me siete veramente importantissimi, perché io senza di voi non sarei niente. Io vi ringrazio per rimanere sempre così carini con me e per esservi continuate a scrivere. A proposito dei primi iscritti, il video di stasera mi è stato richiesto da Gianluca da Furo. Quindi stasera ci rilasseremo, ci rilasseremo con un mazzo di carne da gioco, questo è un vecchio mazzo della mia famiglia, delle carte dal negro. Grazie. E' già rilassante il suono della scatola. Grazie. 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 Vi, amore. Tu debesti di usarli rosso e blu. vogliamo fare una partita insieme prima dobbiamo mischiare le carte dopo guarderemo i semi la quarta quante carta una carta te una carta me una carta te una carta me una carta a me a me fine alla fine del marzo dividerò le carte dividerò le carte possiamo anche vedere i semi e le forme di tre di quattro donna di cuore donna di picche picche coppo di cuore coppo di cuore sei di cuore donna di fiori coppo di cuore regio regio di cuore regio di cuore asso lasso di fiori il cinque di cuore il regio di pink il regio di fiori e così e così via 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 fino a quando non avremo finito tutte le carte perché perché abbiamo i quadri i picche i picche il set di cuore di mattone e ancora fiori il sol una carta matta il sol il sol una carta una carta matta che può valere quello che vuoi un'altra gialla tutte queste carte con semi e segni diversi un po' come nella vita può uscire una carta alta può uscire una carta bassa ma l'importante è provare provare solo chi si mette in gioco può ottenere i suoi risultati come abbiamo iniziato adesso finiremo con il rumore delle carte da gioco le faremo scivolare lentamente io spero che vi siate rilassati 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 e io vi tengo tutti nel mio cuore con l'augurio sincero che domani sia il vostro giorno speciale 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 buonanotte con l'amore che 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 Grazie.